Francesco Zampano, piena preparazione per Ile e Pescara, ci sono queste amichevoli, si avvicina il campionato, si avvicina anche la sfida in famiglia con tuo fratello, vi ritrovate in Serie A dopo essere stati protagonisti l'anno scorso in Serie B? E' sempre bello, sfidare il fratello, il gemello, quindi sarebbe di avere una bella emozione come in questi due anni che ci siamo scontrati. Noi siamo partiti due o tre settimane fa, ce la stanno mettendo tutta, stiamo lavorando, siamo un gruppo giovane, dovrebbero arrivare altri periodi importanti, comunque noi stiamo lavorando bene, quelli nuovi stanno capendo quello che il mister ci sta chiedendo. E niente, ce la mettono tutti. Un Pescara che, come ha detto più volte Massimo Oddo, vuole e deve mantenere la sua identità, che è quella di fare sempre gioco. No, quello sicuramente, la Serie A è un altro gioco rispetto alla Serie B, ne siamo tutti consapevoli, noi dobbiamo cercare di giocare con umiltà, sicuramente non saremo una squadra, te virgolette, cuscinetto per far punta agli avversari, ma cercheremo di dare tutto noi stessi. Andiamo con Meteotea pian piano e speriamo di arrivare al primo campionato comunque con carichi e motivati, soprattutto anche perché molti non hanno mai giocato in Serie A, quindi saremo tutti motivati e con un gran voglio di dimostrare anche in Serie A quello che abbiamo dimostrato in Serie B. L'ultima, Francesco, si parla tanto dell'arrivo di questo attaccante, si fanno tanti nomi, tra questi quello di Osvaldo, un giocatore importante che se dovesse arrivare rappresenterebbe davvero un tassello molto importante quello di Pescara. Vabbè sicuramente Osvaldo tutti se lo conoscono, come anche gli altri che sono stati accostati, io sinceramente non guardo chi dovrebbero prendere, adesso pensiamo a noi, abbiamo un tacco che ci abbiamo mai, comunque anche se è giovane è un promettente, tra virgolette, ha caratteristiche simili all'Apadulo, comunque grintoso, ha voglia di dimostrare, e vediamo in stagione come va, poi sicuramente prenderanno altri giocatori importanti. Grazie a tutti.